Ciao amici di youtube, qui con voi è Shalabuma, Zai e oggi siamo il nuovo video Oggi siamo nel primo episodio del 190 rated foot draft Come vedete mi trovo sul draft simulator Non potrò giocare le partite, ovviamente è un simulatore di draft E se non ci riusciamo in questo episodio, proveremo in un altro episodio a fare il 190 rated foot draft Iniziamo subitissimo Carico, 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 dai Allora, iniziamo subito con il modulo, che è una cosa importante Allora, vediamo questo Questo, io direi di scegliere 3, 4, 1, 2 Proviamo, dai, dai, Messi Totti, Ronaldo Totti Sì, dai, Bale, per forza Bale è il nostro capitano Qui dobbiamo scegliere per forza Diorente per l'intesa Ci devo riuscire ragazzi, non so, è una cosa difficile come la morte però Antonio Griezmann, esterno destro Qui esterno destro dove deve essere Bale, invece è ATT Mentre Griezmann, che deve essere ATT, esterno destro Coke, per l'intesa Ma sono tutti giocatori bassi di overrun, non va bene Dai, ma potevo uscire con alto, non mi puo uscire crondelli Come faccio a giocare con crondelli, dai Andiamo con i centromompisti, dai Mi è stato Oddio Per forza modirci, dovevo scegliere i cantiti che è una fottutissima bestia Guarda che testa che è, è enorme, c'è una testa enorme Chissà cosa c'entra quella cazzo di testa Per forza modirci, dai, se continuiamo così dai Dai, va bene, siamo tutti Bene, a Buccolò, qui Devo dire Marchiso Tantè Marchiso, con Bambi, un buon mista, un giocatore di club Tutti buoni giocatori, però do scegliere il mista, sempre per l'intesa Andiamo con il prossimo giocatore, vediamo un po' Che merda Dai, ma come faccio a giocare con questi giocatori? Non hanno un minimo di intesa Ci arrangeremo con David Luiz, non fa niente Dai, ti prego, dai Dammi qualche giocatore forte Dai, dai, una valutazione, dai Sono i centrocampisti che hanno una valutazione alta È Tito Qua devo uscire per forza company Tito È portiere, ma dai Ma come faccio a giocare con questi portieri di merda? Dai, il portiere, diciamo, della Liga BBVA, voglio vedere uscire Devo scegliere nena perché spagnolo neanche mi fa intesa Andiamo con le riserve, le riserve mi devono portare soddisfazione Altrimenti mi incazzo come una belba Dai Messi, eh, vabbè, dai, ma mi danno giocatori buoni, però dai No, che altro tipo quello non mi potrebbe fare intesa in David Luiz Ancora giocatore di merda Aduriz, per forza Arizzaturiz 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 Eh, va bene Che sfortuna di merda Scegliamo Douglas Costa perché è un buon giocatore Eh, vabbè, vabbè, e vabbè Ma io non posso scegliere Lopez, ho sbaldo Osbaldo mi esce Messi Orlando, Messi Porco Scelgo Man Persi 85 di Uvelo Andiamo con la panchina Iborra, amante della Benzinino, benzinetto, ti volevo nella mia squadra Benzema, non potevi mancare assolutamente Ardaturale Non male Non male Non male Contemporaneamente erosico Mi sento un fuoco impazzito E devo andare a fare la diarrea Scelgo il diarrea Manucchio, manucchio musacchio Ok ragazzi, questa è la squadra Centro di intesa, 84 di valutazione Non è malaccio Non è malaccio Abbiamo De Gea Matti Modric Iniesta 89 88 Le bestie Poi abbiamo un attaccante del Real Madrid Benzemino Benzemetto Bail Veramente tante bestie Per fare una buona intesa Comunque Se il video vi è piaciuto Mi raccomando lasciate un bel like Noi non molliamo Ci ripetiamo nel prossimo episodio Del 190 Rated Food Draft Bella Grazie a tutti